benvenuti alla resegna stampa di venerdì 4 settembre 2020 sul canale 17 come tutte le mattine c'è la rassegna stampa in diretta sono le 7 buongiorno buongiorno a tutti voi cari telespettatori di fano tv allora andiamo subito uno sguardo al calendario vediamo il santo di oggi la chiesa ricorda santa rosalia qui andiamo in sicilia palermo vergine che si tramanda abbia condotto una vita solitaria sul monte pellegrino ma è anche san mosè profeta il sole è sorto alle 6 e 37 tramonterà a 19 43 minuti e volentieri andiamo a vedere anche il tempo per la giornata di oggi per uscire di casa pronti preparati sapere se c'è bisogno dell'ombrello dell'impermeabile o comunque del keyway per coprirsi dalla pioggia no non c'è pioggia né oggi né domani né dopo domani guardate il cielo sarà bello sereno su tutta la regione fino a domenica poi lieve instabilità atmosferica nei primi giorni della prossima settimana ma insomma di questo poi ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni adesso andiamo a vedere subito com'è la situazione al mare con il nostro bagnino tommy buongiorno tommy buongiorno allora giorno mi ha illuminato da dietro dal sole hai un controluce meraviglioso come sarà la giornata oggi è bellissima marco dai adesso le temperature sono veramente gradevoli anche ieri parlando con turisti che fanno per finire l'estate con i fanesi che vivono la nostra spiaggia si sta veramente bene adesso al mare ci sono ancora un po di turisti sì qualcuno c'è ancora sì qualcosina ancora c'è abbiamo letto che insomma agosto è stato positivo anche per gli alberghi si aspettava un meno 40 per cento invece alla fine chiudiamo con gli alberghi a meno 15 meno 10 per cento di presenze ma insomma è stata bene dai ma direi proprio di sì direi proprio di sì una curiosità ieri qualcuno mi diceva ma quanti anni ha tommy quanti anni hai tommy io ho 25 anni marco ok ho perso la scommessa grazie ciao ciao a domani testa di medicina il titolo d'apertura del resto del carlino la carica dei 300 urbino tensione distanziamento per l'esame di ammissione la prova inizia con oltre tre ore di ritardo a centro pagina la l'urlo di gioia di carlos delfino nuovo acquisto di biancorossi parliamo di basket la vl che vince batte il brindisi nel debutto di supercoppa a cavallo del delfino nono vincenzo affano invece si ribella imu troppo alta ne pago la metà e invece sempre restando affano marcia indietro dell'amministrazione comunale su piazza andrea costa da ottobre riapre alle automobili trasporto studenti la lighieri vuole ingressi scaglionati mentre il virus e la scuola prof fragili i presidi non sanno come sostituirli il corriere apertura dell'edizione di pesaro regionali sembra tutto deciso sondaggio tecnè per il corriere acquaroli sopra il 50 per cento oltre 15 punti dunque di vantaggio su mangialardi mercorelli e il movimento 5 stelle rischiano di scendere sotto il 10 le liste vola fratelli d'italia pd giù lega primo partito vl la partenza è con il botto supercoppa battuta brindisi 83 a 71 dicevamo dei docenti fragili il ministero non lasci soli noi medici è l'appello del presidente dell'ordine dei medici di pesaro e urbino paolo battistini che dice ci sono docenti che sono considerati pazienti fragili insegnanti che hanno evidente qualche problema e test sierologici nelle scuole tutte le preoccupazioni dei medici di base impegnati in un tour de force prima dell'apertura delle scuole tante le questioni aperte da affrontare paolo battistini fa il punto della situazione fornisce un quadro dei fronti che sono ancora aperti e poi a urbino l'università per il dopo stocchi calcagnini è l'unico candidato elezioni fissate per i primi di ottobre poi c'è anche la questione della vendemmia siamo in questo periodo in cui si vendemmia nelle marche da primato supera il 15 per cento e allora andiamo a vedere subito nelle pagine interne qual è la situazione questo sondaggio che pubblicano i due quotidiani uno commissionato dal Corriere Adriatico l'altro invece è una stima di svg allora il resto del Carlino pubblica questa pagina dove il titolo è acquaroli sempre più su nell'ultimo sondaggio e se appunto guardate i dati di questo grafico si capisce che francesco acquaroli sostenuto da lega fratelli d'italia forza italia le altre liste di centrodestra è tra il 49 e il 53 per cento mangialardi invece sostenuto da pd taglia viva lista mangialardi e altre liste di centrosinistra si attesta sotto al 35 39 per cento giammario mercorelli sostenuto dal movimento 5 stelle invece è intorno al 6,5 10,5 altri candidati insomma intorno ai 2 per cento e mangialardi in segue dicevo acquaroli c'è il rebus degli indecisi nel test svg mentre per quanto riguarda il sondaggio commissionato dal Corriere Adriatico la svolta a destra delle marche acquaroli supera il 50 per cento regionali di tecnè mangialardi si ferma al 36 mercorelli resta al 9 per cento la lega primo partito con il 24 per cento supera di tre punti i democrat vanno bene due liste movimento per le marche e mangialardi presidente dunque se la svolta a destra era già nell'aria il sondaggio tecnè per il Corriere Adriatico ha confermato che il vento nelle marche sta per cambiare e sarebbe la prima volta nella storia politica della regione il succo francesco acquaroli candidato governatore per il centrodestra ha preso il largo nelle indagini a campione che in queste ultime settimane si sono susseguite anche a livello nazionale tendenza confermata definitivamente da tecnè l'onorevole maceratese se si votasse oggi otterrebbe il 51,5 per cento dei consensi trainato anche dalla lega primo partito delle marche con il 24 per cento dei voti e tra coloro che dovranno votare ma che non possono uscire di casa più o meno siamo intorno ai 400 e dunque queste persone voteranno al proprio domicilio sono quelli in quarantena e la stima fatta sul totale delle persone in isolamento 770 in provincia tra il 10 e il 15 settembre dovranno segnalare le loro intenzioni all'anagrafe squadre speciali nelle abitazioni dopo ogni contatto serve cambiare i dispositivi quindi immaginate voi la privacy che si va a fare benedire quando il vicino di casa vedrà tutta la squadra speciale con tute come se fossero dei palombari che entrano dentro casa sapevo che il vicino avesse sicuramente il covid e comunque questa è la situazione mentre andiamo a vedere la pagina di Ascoli dove purtroppo è arrivata la conferma di questa storia che è una storia che stiamo seguendo ormai ma tutta l'Italia sta seguendo ormai da diversi giorni questa coppia di finanzati lei 17 anni lui 40 che erano in vacanza in Abruzzo a un certo punto questa coppia era partita dalla Repubblica Ceca il 22 di agosto Marchetta questo il nome della ragazza e Thomas il nome del fidanzato partono con destinazione Martinsicuro quindi 1300 chilometri di strada sette giorni dopo alle 10 di sera siamo già al 29 di agosto la mamma di Marchetta ha l'ultimo contatto telefonico con la giovane figlia il 30 di agosto nella riserva naturale Sentina San Benedetto del Tronto quindi nella bassa Marche viene trovato il corpo senza vita di una ragazza due giorni dopo si capirà che era il corpo di Marchetta l'autopsia rivela che è morta affogata si cerca ovviamente il compagno il fatto che in casa tutto sia rimasto in ordine fa pensare che sia morto con lei ha negato e ieri a Giulianova a sette miglia dalla costa un natante da riporto lancia l'allarme e dice c'è un uomo morto in mare ora si attende chiaramente l'identificazione ma non ci sono dubbi sul fatto che sia appunto Thomas questo compagno della ragazza appunto che con il quale insieme erano partiti e il resto del Carlino Flavio Nardini attraverso i social attraverso facebook è riuscito a parlare con Irene Irene è la mamma di questa ragazza di Marchetta e dice l'ultima volta che ho sentito mia figlia è stata appunto sabato e lei dice in questo momento stiamo vabbè stiamo piangendo e poi parla di Marchetta che dice il nostro tesoro si è diplomata con il massimo dei voti stava pianificando il suo futuro e dice ancora siamo devastati non sappiamo come fare senza di lei amava la vita era intelligente bella e altruista la differenza di età con il fidanzato si fa notare lei 17 lui 40 soprattutto perché lei non è ancora maggiorenne ma lui è un uomo generoso un uomo scusate gentile dice ancora Irene quasi a voler allontanare qualsiasi dubbio maligno e avrebbe preso il blu dal cielo per nostra figlia quindi come dire avrebbe fatto di tutto per nostra figlia quindi anche la famiglia si fidava ciecamente di questo di questo di quest'uomo appunto e questi sono gli scatti qui vedete il momento in cui viene portato via il corpo e viene portato sulla banchina per essere portato in camera mortuaria si torna il titolo è forte questo è adesso torniamo a parlare di covid è forte ma chiaramente i giornali lo devono lo devono fare in qualche modo ma dobbiamo essere comunque sempre sulle sulle morti per covid dobbiamo essere sempre prudenti intelligenti fare le giuste riflessioni e non farci prendere dal panico fermo restando che tutti quanti dobbiamo mantenere distanze dobbiamo continuare a fare quello che ci è chiesto di fare per evitare che si diffonda comunque il virus allora si torna a morire di covid questo è il titolo una vittima dopo 80 giorni paziente di 93 anni deceduta torrette ma va detto che questa paziente era comunque aveva malattie delle patologie pregresse insomma aveva 93 anni e quindi il covid ha accelerato un po' i tempi ieri 21 casi focolai domestici in provincia di ancona e dunque dopo una lunga tregua durata quasi 80 giorni ieri il bollettino ha segnato una vittima è la vittima numero 988 un anziano di 93 anni residente a potenza picena in provincia di macerata che era ricoverata nella clinica di malattie infettive degli ospedali di oncona dopo una diagnosi di positività riscontrata il 15 di agosto il suo quadro polmonare non è migliorato nonostante sia stata sottoposta alla terapia con il plasma iperimmune che si sta sperimentando anche a torrette allora l'altra pagina invece del sulla questione covid è interessante perché si parla dei tamponi per chi rientra dai famosi paesi un po' a rischio forse questo tampone non servirà più perché perché la disposizione della regione scadrà il 7 settembre quindi tra qualche giorno la circolazione del virus è andemica non c'è alcun allarme e lo dicono elisabetta esposto ed augusto liberani che sono direttore dei distretti sanitari di peso urbino che ieri nella commissione congiunta sanità e politiche sociali convocate per fare il punto della situazione hanno detto che la circolazione del coronavirus è endemica e non c'è alcun allarme allora su mille tamponi che l'asur somministra ogni settimana i positivi sono in media 5 al giorno e sono quasi tutti asintomatici ci è stato riferito dicono ancora in commissione che non vi è certezza che la regione prorogherà questo provvedimento cioè quello di fare il tampone a rientro da eccetera eccetera seppure non vi sia allarme per evitare il contagio che si propaghi nei luoghi più critici colpendo soprattutto i più fragili si stanno facendo tamponi a tappeto nelle RSA e nei centri diurni stando i dati riportati in commissione il 98 per cento dei disabili ospiti nei certi diurni è stato sottoposto a test quindi questi sono sono numeri importanti mentre ci sono persone che hanno avuto il covid non sono morte e comunque non sono andati in ospedale ma che pur rimanendo a casa pur avendo avuto comunque una situazione abbasta un quadro clinico abbastanza poco preoccupante però hanno avuto e hanno tuttora degli strascichi quindi pesantezza affaticamento piuttosto che problemi gastrointestinali insomma hanno un po di problemini e allora per queste persone c'è un percorso di cure specifiche che l'ospedale sta mettendo in piedi Edoardo Berselli che è il direttore sanitario dice già 36 di questi pazienti sono stati richiamati e dovranno svolgere vari esami dunque si sono ammalati abbiamo detto non sono morti ma non possono dirsi nemmeno guariti nonostante abbiano avuto il doppio tampone negativo e sono questi pazienti che hanno contratto il coronavirus per loro l'ospedale Marche Nord ha organizzato un percorso diagnostico e di cura ad hoc è coordinato dal direttore Berselli ed è destinato a fornire materiale per gli studi sugli effetti a lungo termine che la malattia provoca e della quale ancora sappiamo evidentemente molto molto poco dopo aver fatto gli accertamenti verrà deciso per ciascun caso il medico specialista di riferimento intanto altri quattro positivi in provincia sono di Pesaro Tavoletto e Vallefoglia mentre sul piano organizzativo visto che tra qualche giorno i ragazzi i nostri studenti torneranno a scuola sul piano organizzativo quindi dei trasporti Adria Bus dice che il piano è pronto a regime dopo sette giorni quindi ci vorrà un po' di rodaggio e Benedetti che è il direttore di Adria Bus appunto ha partecipato all'incontro con il comune di Pesaro la Lighieri unico istituto a chiedere gli inghiressi distanziati di 45 minuti che arriva da fuori città dice abbiamo potenziato le tratte più cariche di pendolari con soluzioni aggiuntive dunque il peggio per Benedetti è alle spalle. Sul Corriere si parla anche del nuovo ospedale è il nuovo ospedale che dovrà sorgere a Muraglia. Nuovo ospedale non passa l'emendamento via il paletto per il project in tema sanitario la rabbia della senatrice Accoto delusa dal governo dice lei ma vigileremo sulle situazioni speculative modificata la legge con l'effetto potenziale di sanare il procedimento aperto appunto per Muraglia. La clamorosa ma neanche perché poi nella vita si fanno marcio indietro continuamente dunque l'importante è rendersi conto che se una cosa non va bene si deve cambiare e così è stato per piazza Andrea Costa a Fano. Abbiamo scherzato il titolo sperimentazione conclusa anzitempo tornano pure le auto anche se non tutte l'assessore Tonelli dice adesso riqualificheremo questa 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 area vicino al mercato del pesce. Si fa dietro front dunque doveva durare fino alla fine dell'anno questa sperimentazione voluta dall'assessore alla mobilità sostenibile Fabiola Tonelli invece ieri dopo una pioggia incessante di proteste da parte dei commercianti di tutto il centro storico di Fano l'amministrazione comunale ha ingranato la retromarcia su quella via del cambiamento che ha comunque intenzione di attuare. Si concluderà dunque la fine di settembre la sperimentazione su piazza Andrea Costa il bilancio dice in questa nota è assolutamente positivo nonostante alcune critiche e un po' di comprensibile diffidenza iniziale siamo assolutamente soddisfatti di come è andata. Tantissima gente tantissimi commercianti ci hanno appoggiato in questa scelta e contribuito al buon esito della sperimentazione. E allora andiamo sull'altra pagina quella sempre del resto del calino per dirvi che l'ufficio circondariale marittimo ha effettuato ieri il cambio al vertice beh questo è ciclico è naturale ogni due anni credo si cambi il comandante dunque c'è stata una solenne cerimonia del passaggio di consegne per l'arrivo in città del nuovo comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Fano il quarto in soli cinque anni non è passato neppure un anno solare infatti da quando il 35enne tenente di vascello Giancarlo Alessandro Castellana ha preso il comando della capitania di Portofanese ricevendo il timone da Clara Iasella. Si chiama Anthony Turzo il nuovo comandante è lui a sinistra nella foto con Tipaldi e Castellana allora ha 34 anni ed è di Taranto il tenente di vascello subentrato al comando dell'ufficio di Fano viene dalla capitania di Porto di Porto Torres dove ha svolto il ruolo di caposervizio personale marittimo attività marittime e contenzioso quindi auguri e speriamo in una buona collaborazione con il comandante non è che sia sempre così quindi noi ce l'auguriamo tutte le volte che c'è un cambio al vertice di qualche comando. Andiamo su Fossombrone. A Fossombrone i residenti sono preoccupati perché anche ieri c'è stato un incidente che ha visto protagonista una ragazzina che è stata investita sulla Flaminia e dunque riesplode la rabbia perché questo è l'ennesimo incidente. La giovane ha riportato diverse scorrazioni ed è stata portata all'ospedale. Siamo all'altezza del passaggio pedonale poco prima della rotatoria delle mosse. Ne è rimasta vittima una ragazzina che per fortuna non ha riportato conseguenze gravissime ma diverse scorrazioni e ferite tanto che è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sotto invece Simona, addio senza funerale, Simona è la responsabile della Melampo, per oltre vent'anni ha gestito questo canile, la scomparsa qualche giorno fa. Ser Filippi dice dedichiamole il canile, però di tutto questo articolo prendiamo soltanto questo pezzettino dove si dice che domani è prevista una cerimonia religiosa a Pesaro per volere della famiglia ma Simona non ci sarà. Ieri era stata, scusate non ieri, lei era stata perentoria nel ribadire che non avrebbe voluto alcuna celebrazione religiosa, oggi il suo corpo verrà portato al cimitero dell'Ulivo e fra una settimana verrà cremata come da sua richiesta. Ora detta così passa un po' come una che insomma fuori dal mondo ma in realtà possiamo capire la malattia è arrivata improvvisamente. Ora io faccio una considerazione a tutta personale chiedo scusa se tocco la sensibilità dei parenti e qualcuno, ma dico soltanto che è normale, umano, che a un certo punto quando arriva d'improvviso una malattia che ti dice e sentenzia che devi andare via da questo mondo uno se la prenda un po' con il responsabile, quindi ce l'ha un po' con il padre eterno. Evidentemente lei avrà detto così in un momento un po' particolare. Ma siamo sicuri invece che in questo preciso istante avrà già fatto pace con Dio e sarà tranquillamente tra le sue braccia. Allora adesso andiamo sulla pagina di Urbino. sei giorni per la corsa dopo Stocchi. Calcagnini è ancora l'unico candidato. Elezioni fissate per il primo e due ottobre ma il 10 settembre scadono le presentazioni delle domande per concorrere. Che cosa succede ad Urbino? Siamo a poco meno di un mese dall'elezione del nuovo rettore che durerà in carica fino al 2026 e che avverrà a queste elezioni nei prossimi giorni, abbiamo detto il primo e il due di ottobre, con eventuale ballottaggio il 5 e il 6 dello stesso mese. E siamo ai cosiddetti ultimi giorni, quindi agli sgoccere, a tutt'oggi però l'unico candidato è Giorgio Calcagnini, professore ordinario di economia politica presso l'Ateneo Feltresco. Stando così le cose, lo stesso conosciutissimo professore potrebbe essere, ma è condizionale ovviamente d'obbligo, il prossimo rettore dell'Università di Urbino. E sempre da Urbino ma dal Carlino, città invasa dai visitatori, un agosto boom, benissimo gli alberghi e non solo, tanti francesi e tedeschi ma soprattutto italiani che hanno poi girato per tutto il territorio. E a Urbino c'è stato ieri anche al Palamondo Dolce, alle 8.30, l'esame per gli aspiranti medici, quanti emozioni, fra i controlli e il test da superare, l'esame è cominciato solamente a mezzogiorno però quindi con tre ore di ritardo, numerosi protocolli da sbrigare per i 284 ragazzi provenienti da tutta la nostra provincia. Don Michele lascia festa per salutarlo, per domenica 20 settembre i parrocchiani stanno organizzando un evento di commiato, Don Michele Simoncelli che vedete nella fotografia sorridente qui a destra, lascerà le due parrocchie che ha coltivato per vent'anni, San Donato con le chiese di Rio Salso e Belvedere Fogliense e la parrocchia del Corbus Domini di Padiglione. E quindi c'è grande festa per lui, pare che insomma alle 16 ci sarà questa messa concelebrata con Don Giuseppe nel parco, questo per dire quando un parroco semina bene poi i parrocchiani rimangono sempre con la nostalgia, anche con dolore, anche se poi deve essere così, insomma voglio dire i parroci è giusto che cambino e lo dico non a caso perché la pagina che adesso vado a leggervi nei titoli riguarda proprio un caso del genere. A Orciano due preti fissi mentre a Barchi nessuno. Continua questa sorta di protesta, chiamiamo così, dei residenti di Barchi. Domani alle 20.30 i due preti del paese celeberranno la loro ultima messa a Barchi nella chiesa della Santissima Resurrezione, si tratta di Don Pasquale Caponio nella foto in basso e di Don Luciano Gattei destinati entrambi ad altre realtà. Dopodiché ad occuparsi dei fedeli di Barchi sarà il parroco di Orciano Don Mirco Ambrosini nella foto in alto che andrà a celebrare non solo la messa festiva ma anche tutte quelle feriali a partire dal lunedì prossimo. Ora De Santi, Remo De Santi che è uno dei residenti che a nome di alcuni parrocchiani ha scritto di nuovo al Vescovo e scrive per chiedere al Vescovo perché il nuovo sacerdote non può risiedere nella canonica vuota della chiesa parrocchiale di Barchi ma deve andare a dormire a Orciano insieme agli altri. Ecco questa è la domanda che si pone in questo momento uno di questi fedeli. Mentre sul Nerone, a proposito di croci, quando in vetta al Nerone c'era la croce, il racconto dell'alpinista Paolo Castellani che dice era di legno ma poi cadde per il vento, la veste inedita di uno dei monti simbolo dell'entroterra. La cocaina nel pacchetto delle sigarette invece la cronaca sulle Corriere di Pesero, giovane arrestato nella notte a Pantano, la polizia sequestra gli ovuli durante un controllo, il 26enne patteggia 10 mesi e torna in libertà. Mentre ieri intorno alle 4 del pomeriggio in strada a Montefeltro, a Borgo Santa Maria, una donna di 40 anni di origine lombarde è stata vista vagare in strada, in stato confusionale. I passanti, gli automobilisti hanno chiamato la polizia e poi l'hanno soccorsa. Andiamo sulle pagine di Sport, la Vis non si ferma e preso anche Deramo, un under di lusso, il Jolly di centrocampo ha giocato a Ravenna nell'ultima stagione e la società biancorossa si sta confermando una macchina da guerra. Quindi non solo la VL ma anche la Vis a quanto pare sta mettendo e calando poker uno dietro l'altro, adesso bisognerà vedere ovviamente nel rettangolo di gioco che cosa farà e che prova darà di sì. Mentre per quanto riguarda il Fano Calcio, l'Alma Juventus ufficiale di Sabatino arriva al Fano, il difensore resta in Granata, ieri sera ha firmato l'allungamento del contratto fino al 2022, intanto sono in arrivo due under, mentre non decolla ancora la collaborazione con la squadra dell'Ascoli. VL, bella partenza, Supercoppa Brindisi superata con un ultimo quarto devastante, un ottimo esordio nella prima gara ufficiale, al Geovillage Pugliesi battuti con un Delfino deciso, un grande Zanotti e una percentuale del 96% ai tiri liberi. Che cosa dice l'allenatore? Giustamente non può essere mai soddisfatto e dice infatti subito un'iniezione di fiducia, ma bisogna fare di più. Andiamo sull'altra pagina, la Lube e quindi la Pallavolo, test impegnativo a Perugia, la squadra di De Giorgi oggi alle 17 sarà di scena al Palabarton con la Sir, appunto, con la Sir Perugia. E questo era l'ultimo articolo, l'ultima pagina selezionata per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento oggi, anzi a questa sera alle 20.30 con l'intellegiornale Occhio alla Notizia, arrivederci.